La Regione Toscana ha disposto che i propri uffici durante l'emergenza coronavirus proseguano l'iter autorizzatorio per la realizzazione di opere pubbliche utilizzando, se necessario, strumenti come le videoconferenze e le firme digitali. La Regione ha chiesto anche un monitoraggio sull'andamento dei cantieri, sia che dipendano direttamente dalla Regione oppure che dipendano da altri enti ma si svolgano in Toscana. Con la circolare noi andiamo a chiarire che tutti i procedimenti che sono attivati prima del 23 febbraio o successivamente a questa data avranno la sospensione per il periodo che intercorre da quella data al 15 di aprile. La Regione Toscana ha anche chiesto norme di accelerazione per quanto riguarda gli investimenti futuri, sia per le procedure autorizzatorie che per le gare di appalto. Inoltre, da questo punto di vista, anche il perfezionamento dei procedimenti di silenzio assenso godranno di una sospensione di pari data e di pari tempo. Questo è un provvedimento che intanto noi speriamo possa chiarire diversi dubbi che possa consentire di poter lavorare con una maggiore tranquillità in una condizione ovviamente di grande criticità che è dovuta a questa emergenza sanitaria che stiamo tutti quanti attraversando. La Giunta regionale ha deciso anche che sono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile tutti gli atti relativi alla pianificazione territoriale ed urbanistica, ai piani e programmi di settore, agli accordi di programma.